Continuano le iniziative messe in campo dalla BCC di Aquara. Infatti, venerdì 7 settembre, è previsto alle ore 19 presso l'Aula Consiliare del Comune di Aquara un incontro con Andrea Prete, presidente di Confindustria Salerno e vicepresidente nazionale delle Camere di Commercio. Prete è stato eletto lo scorso anno con 580 voti, iniziando così per il quadriennio 2017-2021 un nuovo percorso all'interno di Confindustria al posto di Mauro Maccauro. La BCC di Aquara sostiene e promuove anche il postiglione periodico di attualità e di studi storici che sarà presentato domenica 9 settembre alle ore 18 presso l'oratorio parrocchiale della comunità di Aquara. I saluti saranno introdotti da Antonio Marino, sindaco di Aquara e Donato Di Poto, presidente dell'associazione Arci Postiglione.